Quest'anno alle Romane mettiamo in questione il tempo, quid est tempus. Che cos'è il tempo? Un contenitore in cui accadono tutti gli eventi, ciò che misuriamo nell'esperienza o è qualcosa che tende a non esistere, come dice Agostino. Se nessuno ce lo chiede sappiamo benissimo che cos'è, ma se qualcuno ce lo chiede che cos'è il tempo scopriamo di non saperlo. È una delle tante questioni filosofiche che alle Romane mettiamo al centro del nostro studio per un anno intero con i nostri studenti, i nostri colleghi e tanti docenti universitari. Quest'anno con Adriano Fabris, docente ordinario di morale a Pisa, con lui indagheremo la natura del tempo. Non solo con lui, ma anche con tantissimi accademici che hanno dato la loro disponibilità alle Romane Disputazioni per entrare nel tema del tempo dall'interno di ogni singolo grande autore del pensiero filosofico occidentale, da Agostino fino ad Aydin.